Ciao sono Bill e sono lo specialista di prodotto qui in LG. In questi video tratteremo gli argomenti principali alle vostre domande più frequenti. Oggi vedremo come scaricare e configurare le app sulla tv. Primo consiglio assicurati che la tua tv sia connessa a internet. Ora accedi allo schermo premendo il tasto home sul telecomando. Nella schermata iniziale avrai una sezione denominata elenco delle app. Qui vedrai una serie di app preinstallate. Per accedervi scorri usando i pulsanti freccia sul telecomando. Per selezionare l'app desiderata premi la rotella in questo modo e segui le istruzioni sullo schermo per accedere o creare un account. Se desideri ampliare le tue app sulla tua tv puoi farlo accedendo al riquadro delle app che si trova nella barra orizzontale. Questo ti porterà i contenuti di LG Store. Da qui puoi cercare e scaricare le app di tua scelta. Una volta scaricata, questa verrà aggiunta automaticamente all'elenco delle tue app e da qui potrai accedere o creare un account. È così facile. Centinaia di app con un semplice tocco. Per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie per la visione. Grazie a tutti.